Ciao a tutti, oggi vi parlo di un caso italiano famosissimo che non ha bisogno di presentazioni. Siamo a Costigliore d'Asti, un piccolissimo paesino nelle Langhe, tranquillo di circa 6.000 abitanti, ed è il 24 gennaio del 2014. È una mattina come tante quando al 118 arriva la chiamata di un residente del posto, si chiama Michele Boninconti. L'uomo chiede se è arrivata qualche denuncia di persona scomparsa, sembra trafilato, aggiunge, perché io non trovo mia moglie in casa questa mattina. No, risponde l'operatore del 118. Ma non è che è arrivato qualcuno in ospedale? Qualcuno che non sanno chi sia? Mia moglie è andata via senza documenti e senza niente questa mattina. L'operatore è piuttosto perplesso e lo invita a contattare i carabinieri. Punto zero. Elena Ceste è appena scomparsa. Ma chi è Elena? Prima di quel giorno è una donna tranquilla di 37 anni, in un paese dove si conoscono un po' tutti. Elena aveva lasciato anni prima il lavoro come analista chimica per dedicarsi alla vita familiare. Si sposa da appena 22 anni con il suo Michele ed è considerata una madre di famiglia molto premurosa. La coppia ha quattro figli in teneretà a cui lei dedica tutto il suo tempo e attenzioni. Sono tutti dunque molto sorpresi che Elena, in una freddissima mattina di gennaio, sia scomparsa nel nulla, che sia sparita dal suo focolare. Giorgio Vitari all'epoca è procuratore della Repubblica di Asti e riceve le prime notizie su Elena Ceste. E all'inizio tutte le informazioni che si possono ottenere sulla sua bizzarra e inquietante scomparsa provengono da un'unica fonte, il marito Michele, vigile del fuoco. Michele dunque ripercorre insieme gli inquirenti la mattina della scomparsa di Elena. Lui e la moglie si erano svegliati come sempre e la famiglia aveva fatto colazione tutti insieme. Poi i bambini erano scesi al piano inferiore per andare a scuola. Solitamente è Elena che li accompagna, ma quel giorno chiede a Michele di occuparsi di lui. Lei sarebbe rimasta a casa perché non si sente molto bene. Ed è la sera prima che Elena ha un malessere. Michele è preoccupato per lei e ha deciso di portarla dal medico appena sarà rientrato a casa. Lui dice che Elena sembra confusa e fa discorsi privi di un senso logico. E in effetti è parecchio preoccupato. Ma ora lasciamo un attimo in pausa il racconto di quella mattina e parliamo più nel dettaglio di questa coppia. Diversi anni prima Michele arriva dalla provincia di Salerno a quella zona sperduta delle Langhe in cerca di un impiego. Ha poco meno di 30 anni e trova lavoro come autista di linea e conosce Elena proprio mentre è alla guida dell'autobus. Niente di più semplice. Lei ventenne, timida, sale sull'autobus e inizia a parlare con il conducente che apprezza molto il conversare con lei. Michele infatti l'ha notata subito. Iniziano a conoscersi, nasce una simpatia che si trasforma in una frequentazione e subito dopo in una solida promessa di matrimonio. Una grande casa in campagna, un giardinetto, quattro figli, i piatti genuini in tavola ogni giorno a pranzo e a cena. Ogni cosa al proprio posto. Michele smette di guidare gli autobus, diventa vigile del fuoco, ne è orgogliosissimo. I suoi figli lo dipingono come un eroe. La famiglia si trasferisce appunto in questa grande casa di campagna che Michele in parte costruisce con le sue mani, a costigliole d'asti. E il sogno familiare è appena stato sfornato e servito. All'apparenza la loro è una famiglia perfetta, felice, gioiosa, genuina. Tutto scorre in modo lineare, gli ingranaggi girano senza triti. I familiari di Elena sono in prima linea a confermarlo. Non ci sono problemi in quell'angolo di paradiso. E la loro Elena, la loro figlia, è felice. Ma ora torniamo al racconto di Michele e a quella mattina di gennaio. Elena dunque non si sente bene, ma il suo non è un malessere fisico. Lei sveglia Michele mentre sta dormendo e gli dice Oggi non portiamo a scuola i bambini. Perché? Ce li controllano i bambini? Li controllano? Michele non capisce. Ma cosa dici Elena? Dai su, andiamo insieme. Sali con me, così poi passiamo anche dal medico. Non ti voglio lasciare sola a casa. Ma Elena non sale su quella macchina perché il dottore a quell'ora non riceve, quindi è inutile. Gli dice vai tu, io resto qui a casa ad aspettarti. Michele è preoccupato, sì, ma non è troppo allarmato. Non pensa che possa accadere nulla di male, quindi se ne va per portare figli a scuola. Infatti, dopo che ha fatto il giro scuola, lui fa altri giri, va al municipio per informarsi sul pagamento dell'immu e poi passa dallo studio medico per vedere gli orari di ricevimento. E poi torna a casa da Elena. Rientrato a casa, apre il cancello e parcheggia al solito posto, sotto ad una finestra, sotto ad un muretto. Scende dalla macchina, va verso l'ingresso, ma poi si ferma. Nel cortile, a terra, vicino ad un tombino, c'è il maglione di sua moglie, quello che indossava quella mattina. Che strano, pensa, ma poi riferirà di essere rimasto davvero di sasso, perché vicino al cancello ci sono i pantaloni della moglie, rivoltati, ci sono le calze, ci sono le sue mutandine, c'è la canottiera intima e il reggiseno. Infine ci sono gli occhiali sul muretto, ma quelli li trova successivamente. Insomma, c'è sua moglie sparpagliata a terra, ma manca il suo corpo. Chiaramente Michele si preoccupa e anche tanto, dice, perché già la moglie era strana quella mattina, non stava bene nemmeno la sera prima, aveva malappena dormito e la mattina aveva fatto dei discorsi strani e inquietanti. E ora a terra ci sono i suoi vestiti, i suoi effetti personali. Inoltre, fatto ancora più preoccupante, Elena è molto miope e senza gli occhiali lei non può proprio stare, non se ne separa mai. È quasi più preoccupante, in effetti, che lei non abbia gli occhiali che reggiscono le mutandine a quel punto. La cerca nella zona esterna, poi dentro la casa, la chiama a gran voce, ma Elena non risponde. Chiama la vicina, che non ha visto Elena. Allora inizia a pensare che la moglie si sia allontanata o che sia stata rapita, però senza vestiti, quindi che sia in giro nuda e senza occhiali in inverno inoltrato. Chiaramente Elena, se è andata via da sola, può essersi allontanata soltanto a piedi. Non può immaginare che dall'aperta campagna nuda sia arrivata ad un mezzo pubblico o ad una macchina senza che qualcuno la soccorresse o chiamasse un 118. Partono le ricerche e i cani fiutano l'odore di Elena, ma non riescono a trovare nessuna pista concreta. È una zona di aperta e vasta campagna. Nel frattempo, mentre la cercano, ricostruiscono la vita e la personalità di Elena Ceste. Bisogna andare proprio a fondo, rompere lo specchio pulito della superficie, perché la storia della brava donna, devote, di chiesa, mamma e moglie esemplare, adorata figlia, insomma non basta. Elena Ceste è una giovane donna che vive una vita semplice in effetti, in una famiglia come quelle di una volta, come quelle del sogno americano se ci trovassimo in America o del mulino bianco se siamo in Italia. Una donna a tutto fare in casa, che pulisce, cucina piatti sostanziosi e casalinghi, una di quelle donne che nel frigo, quando lo aprono, non ha il dado della Knorr, ma l'intera gallina da fare a pezzi e cucinare. Elena ha un diario da cui trappila una vita chiusa e ordinaria, metodica, senza troppe sbavature. Poche relazioni, tutte scandite e uguali, una vita spesa per la sua famiglia, una vita molto morigerata, dove non c'è spazio per le frivolezze, ma soltanto per la sostanza. Quando scrive qualcosa, raramente riguarda lei, ma i successi dei figli, le incommense di casa, i bisogni del marito e della prole, annota tutto quante uova è riuscita a vendere, che cosa ha cucinato, cosa compra al supermercato, quanto spende nel dettaglio. Scrive che è Michele che le ha tagliato i capelli, perché nemmeno dal parrucchiere si va, non serve. Insomma, è una vita che sembra cristallizzata a 50-60 anni prima, i bambini, la dura vita di campagna, i lavori di casa, gli animali del cortile, i cibi rigorosamente fatti in casa e non confezionati, non surgelati. Nessun bezzo, nemmeno il parrucchiere. Leggendo il suo diario, ancora una volta ci viene restituita l'immagine di una donna perfetta, il ritratto di una madre angelica e di una moglie davvero esemplare, così come tutti in effetti la dipingono. Ma poi i genitori di Elena introducono qualcosa di piatto, portatile e con uno schermo in quella casa, ovvero un computer. È Elena che inizia ad usarlo e che lo insegna anche ai figli e quando lo fa qualcosa si smuove in lei. Le prime onde, le prime increspature si sollevano su un mare fino ad allora piatto e liscia tavoletta e Elena si ridesta perché quella vita, a quanto pare, l'ha piattita sotto ogni punto di vista. Lei riscopre attraverso il computer che c'è ancora un'altra Elena, che non è solo la moglie, non è solo la madre né la casalinga, che esisteva già quest'Elena. Un'Elena prima del matrimonio, che aveva una vita movimentata, piena di piccole scelte autonome, piena di emozioni e sentimenti, che forse ancora doveva capire, prima di salire su quell'autobus a vent'anni, che cosa davvero volesse per la sua vita. È come se da quell'autobus lei non sia mai scesa, tanti momenti belli, certo, ovviamente, ma la sua vita è un tragitto tracciato da qualcun altro, identico ogni giorno, stessa linea, stessa corsa. Si apre così qualcosa in quella casa, un balconcino da cui Elena si affaccia ed evade, trapassando il suo profondo isolamento. Perché prima di tutto Elena Ceste è una donna molto sola. E io come ve lo dico? Come lo so? Non me lo invento, chiaramente. No, parlano proprio le analisi sul computer della donna. Elena Ceste aveva delle amicizie, alcune maschili, non tutte, cercava delle compagnie al di là di quella del marito, un marito che le scandisce la vita al secondo e con cui in effetti non può avere segreti, non può parlare. Elena è sempre stata fin da ragazzina molto timida e schiva, dolce, propensa alla sottomissione. Decidi tu, facciamo quello che vuoi tu, a me sta bene tutto. È così, in famiglia, con gli amici, con i suoi primi amori, come con Paolo, un amore che nasce nel 1991 e dopo un anno e mezzo finisce. Poi però, da quel balconcino sul mondo, Elena approda su Facebook e ritrova tanti amici, anche Paolo. È l'anno 2012, i due si riscoprono, chattano, ricordano vecchie sensazioni e momenti insieme. Ci sta. Elena sembra molto sola e Paolo lo percepisce. Elena vuole chiacchierare, la sera Michele spesso è a lavoro, i bambini dormono, lei è sola in quella grande casa di campagna e batte frenetica i tasti sul pc, desiderosa di calore. Paolo vorrebbe anche incontrarla a un certo punto, anche con le rispettive famiglie, ma non la incontrerà mai, dice, perché Elena si nega sempre. Racconta che Michele è un uomo molto geloso e non avrebbe piacere e allora lui desiste. Ma ci sono altri uomini, ora io sono sincera, non so dirvi quanto Elena si sia spinta oltre con alcuni di loro, sono state dette molte cose su Elena Ceste. Non so se siano state solo chiacchiere o altro, ma è stato purato che gli uomini che Elena sentiva al momento della sua sparizione erano sei. Un vecchio compagno di scuola, un certo Tony, un uomo che guidava una golf, il cui nome è Damiano, un collega vigile del fuoco del marito, un amico di famiglia e questo Paolo. Nel 2013 Michele e Elena hanno una prima crisi familiare certa. È molto probabile che Michele abbia scoperto il balconcino da cui ogni giorno e ogni sera la moglie si affaccia. I due però riescono comunque a mettere a posto le cose e a superare le loro divergenze, soprattutto per il bene dei figli e della famiglia. Però Elena quanto pare non si ferma, è in apnea, ha bisogno di respirare e ha trovato questo modo per farlo. È l'unico modo che conosce, è l'unico modo in cui ci riesce e Michele probabilmente lo scopre. Tre giorni prima della scomparsa di Elena, Michele è davanti alla scuola dei figli e ha con sé il cellulare della moglie. Glielo ha sottratto oppure gli serve per qualche motivo, dunque si accorge che questo Damiano, l'uomo con la golf, la chiama. Damiano è un muratore della zona e un figlio che va in classe con uno dei figli di Elena e Michele. Damiano ha visto Michele davanti alla scuola dei figli e pensa che quindi Elena sia sola a casa e possa parlare. Quello che ignora è che è proprio Michele ad avere il telefono di Elena. Elena chiaramente non risponde e Michele legge i messaggi che Damiano le manda. Amica mia rispondi, mi dicevi che di te mi potevo fidare e contarci e dove sei adesso? Oggi ne approfitto sapendo che tuo marito non c'è, fatti sentire. Per favore mi rispondi, voglio sentirti, perché ti comporti così? Io non ho mai avuto maschere nei tuoi confronti, io so che sei sola altrimenti non avrei mai insistito. E poi dopo questo un altro messaggio, cioè tutti a catena. Stordita, mi stai facendo impazzire, se mi portano al manicomio è colpa tua, spero che lì mi vieni a trovare. Insomma nei panni di Michele, Michele capisce che Elena è andata avanti, che si è svincolata dal suo controllo di marito. Elena è altro al di fuori di lui, altre relazioni, ha un mondo che gli tiene nascosto. Parla con uomini che hanno questo livello di confidenza con lei. Michele è innanzitutto, lo vedremo, un uomo molto molto presuntuoso, cioè è un uomo con un grande orgoglio, un io davvero esagerato. Quindi sicuramente, e si può capire, ha provato una grande umiliazione a leggere questi messaggi. Michele racconta la sua versione rispetto a questa cosa. Lui non era così geloso di Elena, perché si fidava di lei e di loro, ma questo Damiano per lui era tipo uno stalker. La stava perseguitando, dunque quando quella mattina di gennaio non trova la moglie in casa, pensa che il responsabile sia proprio Damiano. Michele chiama Damiano dopo la scomparsa di Elena e non è una conversazione semplice, è veramente una conversazione inquietante e strana. Perché Michele ha sempre questo tono piatto, questa voce cordiale, ma insidiosa. E chiede a Damiano, come mai non ti fai più sentire? Come mai non ti vediamo più da queste parti? E Damiano risponde, lo sai che sono stato coinvolto. E a quel punto Michele gli dice, sai, mi piacerebbe fare una chiacchierata, io e te. E Damiano gli risponde, sì, magari davanti ai carabinieri, così siamo più tranquilli. Hai paura di me, Damiano? No. E allora dimmi, perché importunavi mia moglie Damiano? Io non la importunavo, eravamo solo amici. E Michele conclude con, sarà, ma sei stato un uomo di merda Damiano. Quindi, Michele, dai tabulati telefonici del suo comportamento, sembra, nelle giornate successive alla scomparsa di Elena, un marito affranto, che cerca di trovare sua moglie e che ha dei sospetti. E tutto sembra molto logico. Michele questi sospetti li espone anche ai giornalisti, agli inquirenti. Racconta che Elena riceveva messaggi pressanti da altre persone, da un uomo in particolare, e che poi l'è scomparsa. Michele poi riferirà anche di aver incrociato, proprio il giorno della scomparsa della moglie, una Volkswagen Golf, come quella in uso a Damiano, provenire da casa sua. Insomma, lui stende proprio la mano e punta il dito. Damiano invece si difende. Lui Elena non l'ha mai toccata con un dito, ha la coscienza a posto. Erano solo amici. Viene indagato, parla con i carabinieri, ma nonostante questo Michele continua a telefonargli, a porgli domande, con la sua voce fredda e calma, a instillare i dubbi. Michele ha suggerito caldamente questa pista. L'ha suggerita, come vi ho detto, ai carabinieri, ai giornalisti che iniziano ad affollare il suo giardino, e anche i suoi tabulati, che sono chiaramente intercettati, lui lo sa, lo suggeriscono. Eppure le indagini escludono che Damiano ci entri qualcosa nella sparizione di Elena Ceste. Perché? Perché Damiano, innanzitutto, ha un lavoro e un alibi di ferro, e la mattina della scomparsa di Elena lui stava lavorando. Fine della storia. Vengono, inoltre, verificati gli alibi di tutti gli uomini che Elena sentiva, ma nessuno di loro viene preso in seria considerazione. Così i giorni iniziano a passare. Venti giorni dalla scomparsa di Elena Ceste sono tanti. È il 12 febbraio del 2014, e di Elena a questo punto parla l'intera nazione. Proprio il 12 febbraio ne parla chi l'ha visto, mostrando con un filmato Michele, che li fa entrare nella loro casa costiglia alle dasti. Michele racconta la redazione di chi l'ha visto la sera prima e la notte prima della scomparsa di Elena. Racconta che la moglie non stava bene, che aveva avuto incubi ed era angosciata. Aveva riferito a Michele di alcuni messaggi che le erano arrivati sul telefonino e che l'avevano profondamente disturbata e spaventata. Non mi sento bene, ho sbagliato, ho sbagliato, devo recuperare. Michele allora le chiede di essere chiara, ma riferisce che la moglie è in pieno delirio. Usa proprio questa parola. La moglie appariva confusa, spaventata da questi sconosciuti che le mandano tanti messaggi e lei non riesce a pensare, a capire, è perseguitata. Dice che qualcuno vuole portarla via di casa, che le avevano dato appuntamento ad una cava e lei c'era andata, ma lì c'erano due uomini e uno di loro l'aveva filmata. Era scappata di notte mentre i bambini dormivano e lui era in servizio per incontrare queste persone. Elena riferisce di sentire delle voci, voci cattive che le dicono che indietro non si torna, che lei ha sbagliato tutto, che sta perdendo ogni cosa. Michele racconta questo alle telecamere, poi la guarda alla telecamera franto e dice Ti amo moltissimo, torna a casa da noi, ti stiamo aspettando. Anche la sorella di Elena confermerà che Elena la sera prima della sparizione non stava affatto bene. Il 23 gennaio, se erano sentite telefonicamente, Elena aveva lamentato di non stare bene con la testa. Ma Elena, hai male? No, non è male, non riesco a spiegarmi, non riesco a spiegare la sensazione. Michele comunque non si arrende e continua a spingere sulla pista dei terzi. Continua a dire che la moglie era distrutta, confusa, che forse ha combinato qualche casino su Facebook. Poi cerca nelle cave della zona, proprio perché Elena aveva parlato di un appuntamento in una cava. Allo stesso tempo che lui ne sia consapevole o meno, ha descritto la sera prima della scomparsa della moglie quella che per gli addetti ai lavori della salute mentale è una crisi psicotica, ok? Una crisi psicotica potente, annientante, perfetta. Il delirio, la confusione, l'agitazione, le voci, i pensieri ossessivi e persecutori. Quindi, che cosa è accaduto ad Elena? Elena è scappata proprio perché è in pieno delirio, confusa, agitata? Vaga da qualche parte? Oppure qualcuno la sta tenendo segregata? Se la prima ipotesi fosse quella vera, l'avrebbero certamente trovata in qualche modo. Michele parla di ricatti riguardanti figli, filmini con cui la stavano tenendo in scacco, messaggi telefonici, telefonate, forse una setta, una di quelle che cerca sangue pur innocente, come quello di sua moglie, sua moglie che si è totalmente persa. Si è persa con il corpo, si è persa con la testa. La storia di Elena a questo punto del racconto sfonda ogni barriera mediatica, io me lo ricordo bene, si inserisce in ogni casa. Prende campo come uno tra i casi di cronaca più famosi e anche più inquietanti, ok? Perché è difficile pensare a questa mamma, a questa moglie, dove è finita? In tanti se lo domandano perché lei era una madre amorevole primurosa che magari avrà avuto anche problemi con suo marito, che che lui ne dica, ma è richiamo dei figli piccoli, quello non può non sentirlo. Loro la cercano, lei non è con loro. Allora dov'è? La pressione mediatica, soprattutto sugli inquirenti, è alle stelle a questo punto, proprio perché è un caso molto famoso e continua ad aumentare. Il 7 marzo del 2014 sono passati 42 giorni della scomparsa di Elena Ceste e gli avvistamenti della donna sono stati moltissimi in tutta Italia. In particolare un video girato proprio questo giorno su un autobus di linea, il 50 di Torino, mostra una donna che le assomiglia moltissimo. Poi c'è un altro avvistamento sempre su un'altra linea di Torino, la 4. I genitori di Elena, guardando questi filmati, sperano che possa essere lei perché la somiglianza è notevole. Tuttavia non hanno mai pensato ad un allontanamento volontario, perché conoscevano Elena e Elena non poteva averlo fatto. In primis nuda e senza occhiali, lei non ci vedeva niente. Sicuramente non avrebbe lasciato così tutti loro all'improvviso. In quegli avvistamenti loro ci sperano, sperano qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che ti porti a credere che chi stai cercando sia ancora in vita. Passano i giorni, passano i mesi. Elena Ceste viene cercata nelle campagne, nelle città, negli ospedali, anche nei convinti di clausura, ok? Ma è completamente sparita, non si trova. Si inizia allora a pensare che Elena sia morta, ve lo dico chiaro e tondo. E appare anche molto strano che a un certo punto, da alcune intercettazioni di Michele Boninconti, l'uomo appaia scettico e restio sulle riprese delle ricerche della moglie. La sua voce è sempre monotona mentre parla con un collega e dice Ma se fosse qui l'avremmo trovata. Insomma non sembra molto entusiasta che si cerchi ancora. Ma attenzione, c'è un'intercettazione telefonica particolare che apre un mondo su Michele. Michele dissuade un suo collega, vigile del fuoco, a cercare Elena in una determinata zona poco distante da casa sua. Dice che questa zona è assurda, è improbabile, è impervia. Elena non sarebbe mai potuta in uno stato confusionale arrivare proprio in quella data zona. Così invalicabile, così difficile. I suoi consigli chiaramente non sono visti con sospetto o perlomeno non subito, non da tutti, ma da qualcuno sì. Perché sin dall'inizio su Michele qualche dubbietto insomma si è addensato. Ci sono troppe contraddizioni nel suo racconto, reso con quella voce pacata e inflessibile, quasi petulante. Con i figli viene intercettato mentre ha un atteggiamento oppressivo, imponendogli di non raccontare che con la mamma lui litigava spesso ultimamente. Poi dice una frase che spaventa molto. Dice loro ai suoi figli, io ci ho messo anni a raddrizzare vostra madre. Che cosa, che cosa intende? Desta anche qualche pensiero il fatto che Michele si consoli in fretta, perché nei mesi successivi alla scomparsa di Elena lui sente altre donne e le sente in maniera intima, con loro scherza, fa il simpatico, il piaccione. C'è un altro dettaglio molto difficile da digerire. Il 20 gennaio del 2015 viene rinvenuto dopo quasi un anno il cane di Elena, Gandalf. Anche lui era scomparso qualche mese dopo di Elena a marzo e infatti si pensava che questo cagliolino fosse in cerca della sua padrona, mentre invece era al sicuro in un allevamento. Michele a questo punto, solo ora, dirà di averlo portato al suo padrone originale. Ma perché l'ha fatto? Perché non l'ha detto? Cioè Elena è scomparsa solo da pochi mesi e lui dà via il suo cane? Poi Michele in alcuni frangenti perde la pazienza, diventa impudente, si toglie via questa facciata di calma assoluta. Gli chiedono ad esempio se lui abbia telefonato ad Elena dopo la scomparsa e lui dice Mica sono scemo, il telefono di Elena ce l'avevo io, come faccio? Mi chiamo da solo? Però in realtà non è corretto perché dai tabulati telefonici quando li analizzano lui forse se l'ha dimenticato, ma Elena subito dopo la sua scomparsa lui l'ha chiamata cinque volte al telefonino. E anche se lo nega, carta canta. Però c'è anche da dire che forse è una svista, perché non si è mai lucidi in questi momenti, ok? Eppure il suo comportamento è molto strano, freddo, ambiguo, distonico, è un uomo che traffica, che propone molte piste, che si dà molto da fare, che insinua, che ha dita, che cerca, che telefona, poi dice di non cercare in una data zona, sembra disinteressato, camaleontico, pieno di sfaccettature, poco limpido. E tutte queste contraddizioni ad un certo punto vengono lette in una sola maniera. Michele nasconde qualcosa e forse ha avuto un ruolo nella scomparsa di sua moglie. Luglio del 2014, Elena è lontana da casa da sei lunghi mesi, ma la sua famiglia non la dimentica e nemmeno ovviamente la città. Il 2 luglio viene organizzata una fiaccolata l'ennesima, ora a me le fiaccolate non piacciono, mi danno i brividi. Una fiaccolata per una donna che è finita in un buco nero dopo una giornata come tante. Il risveglio, la colazione, l'oblio. Elena manca, manca tanto, manca soprattutto ai suoi quattro figli, che sono ancora poco più che dei bambini, alcuni proprio dei bambini, altri quasi degli adolescenti. Manca ad ogni risveglio, ad ogni respiro che fanno, ok? Ogni giorno è una pena che si rinnova, perché come ci siamo detti tantissime volte nei miei video, il non sapere è molto peggio che un'orribile verità. Perché ad un certo punto tu hai bisogno di toccare la realtà, anche se è devastante, perché se non la tocchi tu non potrai mai andare oltre e affrontarla. E ora diciamocelo, nemmeno gli inquirenti hanno in mano niente, non hanno in mano molto, hanno solo dei sospetti, tutti sul marito Michele. Ma con le contraddizioni non si porta a processo un uomo. Loro non sanno nemmeno se Elena sia morta, se è stata uccisa, il suo corpo non c'è, è questo il problema, non c'è davvero nulla, serve il suo cadavere. Ve lo dico proprio chiaro. Siamo in località Chiappa, ad Isola Dasti, nella zona del Rio Mersa. È il 18 ottobre del 2014, sono passati nove mesi dalla scomparsa di Elena. Sono le nove del mattino e voi dovete visualizzare una ruspa gialla che affonda la sua pala meccanica dentro al fango di un canale, pieno di acqua e di mielba. Il canale è limaccioso e stanno ripulendo l'alveo del Rio Mersa. La ruspa smuove, scava e qualcosa che nessuno si aspetta affiora. Affiorano delle ossa di un corpo umano. Uno scheletro prono dentro al fango ha lo stadio trasformativo della saponificazione che solitamente si verifica quando il cadavere viene immerso in liquidi a lento scorrimento o in ambienti estremamente umidi e nel tempo che può andare dalle 6-8 settimane all'anno. Cazzarola se coincide. E un pensiero a Elena Ceste è immediato. Perché c'è un fatto strano in più. Perché in quel canale non c'è una sola traccia di vestiario o di tessuto, niente, né una maglietta, né indumenti intimi, né occhiali. 48 ore più tardi l'esame del DNA lo conferma. Lo scheletro sepolto nel fango saponificato lì dentro è quello di Elena Ceste. Il fiume è vicino a casa di Elena e lei non c'è caduta, pare, non è inciampata, è stata portata ed agiata in quel posto, è stata sotterrata lì. Questo pensano. Ora, il professor Romanazzi, medico legale, non ravvede in sede autoptica, attenzione, alcun segno evidente di lesione o ferita, il che non significa che Elena non sia stata uccisa, ma che lo scheletro è troppo danneggiato, in particolare le cartilagine del collo si sono diradate e non c'è l'osso ioide che è quello sicino che in caso di strangolamento sarebbe spezzato. Non c'è. Nonostante questo i medici legali non escludono, anzi ipotizzano che Elena sia stata proprio soffocata anche se il corpo non restituisce la verità completa. Per loro l'unica ipotesi plausibile per quel ritrovamento è una morte violenta in un altro luogo e poi l'occultamento mirato sotto al fango del rio Mersa. Elena è stata uccisa, questo si afferma. Mentre il cadavere viene ritrovato, Michele Buoninconti telefona ad un collega, hanno appena ritrovato il corpo ma nessuno si sbottona con lui. Eppure la prima domanda che Michele fa molto razionale, molto strana è questa. Tono piatto e calmo, non chiede se è Elena, non piange, lui dice questo. Più che altro sembra quasi che voglia una conferma. È in avanzato stato di decomposizione? Ora, che domanda è? Cioè perché un marito dovrebbe chiedere quanto è decomposto il cadavere della moglie? Certo però bisogna dirle tutte, Michele è un vigile del fuoco, è addestrato alle situazioni di emergenza e spesso anche a vedere la morte, quindi riconosce i processi di avanzata di composizione, per cui forse la sua domanda sebbene molto strana ha un senso, ma avrebbe anche un senso il fatto che lui sa che la saponificazione del corpo non ci regala moltissimo su un cadavere. Ad esempio, fa sbiadire le tracce di una morte violenta, che è quello che infatti è avvenuto con Elena Ceste. La sua non è una domanda semplice però da digerire per chi la sentirà. È la prima cosa che Michele chiede sulla moglie scomparsa da nove mesi. Ora, da ritrovamento del cadavere di Elena, Michele viene iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio volontario e la famiglia si spacca e i genitori di Elena iniziano a prendere le distanze da quel genere a cui avevano sempre creduto. Sono increduli e scioccati perché devono mandare giù troppe cose. Ad esempio, loro devono digerire il fatto che Elena fosse sepolta in un fiumicattolo in un canale vicino casa, ok? Nell'esatto posto dove la sera stessa della sua scomparsa era andato proprio Michele a cercarla con il cognato e con alcuni vigili del fuoco ed era stato Michele a guidare la spedizione in modo molto fermo. Si erano divisi e sparpagliati nella zona e fu proprio Michele a dire di aver verificato personalmente quel punto lì dove Elena poi verrà ritrovata. Gli altri erano andati sotto su richiesta in altre direzioni ma lei era lì. Se fosse tutto pianificato quanta freddezza se fosse vero chiaramente. Dopo il ritrovamento del corpo la procura procede con due atti investigativi molto importanti le indagini sui vestiti di Elena e le indagini sulle celle telefoniche del cellulare di Michele in modo da ricostruire il percorso che il telefono ha fatto quel giorno e questo percorso in un periodo di tempo che va dalle 8.40 a dopo le 9 del mattino porta all'esatto tragitto da casa Buoninconti al punto del ritrovamento del rio Mersa e questo è un fatto. Coincide. Michele dirà poi che era andato a cercarla. Veniamo ora agli indumenti sui pantaloni e su una delle calze c'è del terriccio ora il terriccio dovrebbe essere chiaramente compatibile con quello del cortile di casa dove gli indumenti erano gettati no non lo è cosa vuol dire questo vuol dire che probabilmente Michele in giardino non li ha mai trovati coi vestiti sparsi come una grottesca caccia al tesoro lui li ha presi e li ha toccati subito dopo aver occultato il corpo di Elena al rio Mersa due mesi dopo il ritrovamento del corpo è Natale ma per la famiglia buone inconteceste non è un Natale sereno c'è tantissimo disagio e c'è troppa tensione perché i dubbi su Michele sono sempre più evidenti e l'uomo è guardato con sospetto ma Michele ha pur sempre quattro bambini che sono anche figli di Elena e i nipoti dei suoi genitori quindi la famiglia si sforza di trascorrere quel primo Natale senza Elena insieme ai bambini e di conseguenza anche a Michele perché non si può fare altrimenti e se ci pensiamo che giornata deve essere stata il 29 gennaio ad un anno quasi esatto dalla scomparsa di Elena Ceste Michele Buoninconti viene arrestato ci sono le immagini e anche i video viene prelevato dalla sua casa di mattina mentre i suoi quattro bambini sono a scuola i bambini vengono immediatamente affidati con un provvedimento urgente del tribunale per i minorenni ai nonni materni quel giorno insomma questi bambini parliamo un po' di loro usciranno da scuola e oltre a non avere più una madre non avranno più nemmeno un padre ok l'avvocato della famiglia Ceste uno degli avvocati conserverà sempre uno dei ricordi dice emotivamente più toccanti della sua carriera e della sua vita cioè il viaggio di rientro da scuola a casa con Inisa una delle figlie più grandi di Elena la figlia più grande di Elena e il nonno Franco entrambi piangono ma non dicono una sola parola per tutto il tragitto sono proprio annientati gli avvocati della famiglia Ceste in questa storia sono stati molto più che dei legali perché ad esempio quel giorno sono andati a prendere i bambini a scuola hanno accompagnato i nonni poi sono tornati a casa hanno mangiato insieme li hanno rassicurati hanno provato a rispondere ad alcune delle loro domande insomma si sono uniti nel cercare di tutelare la parte più fragile e più importante della famiglia Ceste buoni inconti che sono questi quattro bambini i bambini ad esempio non avevano nulla da vestire casa loro non c'è più è un luogo sinistro ora pieno di tanti ricordi per loro quasi tutti felici in effetti la mamma tra quelle mura non esiste più il padre è stato portato via in malo modo ogni cosa in effetti ha conservato una parvenza di normalità di quella che un tempo era la loro routine ma di normale in quella casa non c'è più nulla quel posto che loro chiamavano casa ora è desolato silenzioso fa paura perché quel luogo che era a casa ora è la probabile scena del crimine la scena del crimine di una morte violenta quella della loro mamma Franco il papà di Elena ci deve tornare con i ragazzi e deve recuperare insieme a loro quello che serve come vestiti libri di scuola il giocattolo preferito una vita che si è arrestata per sempre e che si è arrestata per loro due volte nell'anno in cui sono rimasti senza la madre e hanno dovuto ricominciare da capo e ora di nuovo devono ricominciare ora che anche il padre non c'è più ma Michele perché l'avrebbe uccisa? perché non riusciva più a dominarla perché era divenuta ingestibile perché lo aveva offeso per questo cosa pensano che sia accaduto a questo punto gli inquirenti? cosa credono che Michele abbia fatto? dunque secondo loro innanzitutto Michele ha premeditato tutto Elena deve sparire dalla sua vita perché non è adatta a stare con lui porta quindi i figli a scuola rientra a casa parcheggia e sale di sopra Elena è lì non è scomparsa è appena uscita dalla doccia è nuda ed è vulnerabile è nella sua camera da letto lui la aggredisce la disprezza la soffoca esce fuori tutta la sua furia l'uomo opaccato e metodico non c'è più la soffoca con un cuscino nel loro letto questo è il disegno che delinea il jeep nelle sue 80 pagine di ordinanza non lo dico io Michele lo odiava ormai da tempo lucido freddo controllato Elena non aveva scampo ha giusto il letto piega i vestiti in una pila ordinata lascia il resto della casa in disordine ma il talamo nuziale è perfetto viene ovviamente disposta anche una perizia psichiatrica su Michele e buoni inconti dove il perito criminologo però afferma che l'uomo presenta un disturbo di personalità ossessivo e uno smisurato egocentrismo Michele si dichiara innocente e Giuseppe Marazzita e il suo avvocato gli crede la loro linea è che Elena non sia stata uccisa in realtà e che non ci sia un assassino da cercare sono tanti gli elementi bisogna dirlo a cui si appella la difesa per dimostrare l'innocenza di Michele l'auto ad esempio era pulita non c'erano segni del trasporto del cadavere né del terriccio Michele in teoria dovrebbe essere sceso nel rio Mersa per lasciare il cadavere eppure non si è sporcato e neppure si è graffiato le mani o il volto con i rovi il suo DNA non è stato ritrovato sul corpo e non c'è segno di lui su di lei per la difesa Elena è caduta nel fiume ed è stata una disgrazia i vestiti i vestiti nel cortile dimostrano il fatto che lei fosse in pieno delirio ok è per quello che i vestiti sono lì nuda agitata in presa ad uno stato confusionale di un delirio persecutorio corre attraverso i campi sperduti che collegano casa sua a rio Mersa senza nemmeno gli occhiali ok lei non ci vede nulla quindi cade si frattura il coccige e la frattura sul coccige è stata ritrovata e muore assiderata o comunque di stenti Elena scappando vuole nascondersi da coloro che la vogliono portare via da casa sua perché lei come madre non vale nulla come aveva detto la sera prima al marito scappa si nasconde è stanca non ha dormito la sera prima si addormenta perde quasi sensi cade muore per assideramento o forse per annegamento questo è quello che dice la difesa il primo luglio del 2015 inizia il processo a Michele Boninconti che si avvale del rito abbreviato l'accusa vuole dimostrare in particolare la premeditazione del delitto Michele aveva lavorato quella mattina con velocità chirurgica il posto non era stato scelto a caso ma con cura infatti la pulizia del rio Merser è stata effettuata nel 2004 dieci anni prima quello era un luogo isolato poco considerato e poco accessibile inoltre l'abitazione di Elena e Michele diste linea d'aria da rio Merser un paio di chilometri appena e quel tratto di fiumiciattolo di fiume dove verrà ritrovata Elena è visibile ogni giorno dal terrazzo di casa buoninconti quindi Michele osservava quel luogo prima del delitto e soprattutto dopo cioè lui vedeva tutto osservava il luogo dove lei giaceva e in cuor suo forse sentiva di averla fatta franca come dirà in un'intercettazione io ce l'avevo sotto gli occhi perché da casa mia si vede ma poi alla fine qualcosa va storto perché quel tratto di fiume lo puliscono però lo puliscono dopo nove mesi durante il processo nulla sembra scalfire Michele che si mostra diverse volte duro anche diverso più sicuro più tronfio il fisico asciutto i capelli lunghi quasi sprezzante pensa che in fondo non ci saranno delle conseguenze tangibili per lui che lui tornerà la sua vita l'opinione pubblica individua lui come colpevole certo perché non riesce ad immaginare all'opzione B cioè a una crisi psicotica cioè ad una mamma che ha una vita normale un giorno si alza e scappa dopo aver salutato i figli alla mattina nuda che vaga per le campagne per poi morire distenti no a questa versione non ci si vuole credere qualcuno deve averle fatto del male e quel qualcuno è Michele un uomo di cui si delinea un ritratto anche abbastanza come dirvi antipatico inquietante maniacale freddo misurato Michele aveva un'agenda come Elena dove annotava ogni cosa tutto quello che faceva in modo freddo distaccato impersonale ed emerge al processo un dettaglio da brividi anche il giorno della scomparsa della moglie il 24 gennaio ha notato qualcosa come sempre dato da mangiare alle ocche virgola scomparsa Elena punto quindi subito dopo il pasto le ocche la scomparsa nel nulla di sua moglie e della madre dei suoi quattro figli un fatto derubricato ad una faccenda domestica annotato così come annoteresti che l'indomani hai il dentista i periti dell'accusa della difesa si danno battaglia le perizie legali anche l'accusa dice che l'annegamento è da escludere per la poca portata del rio mersa e l'assideramento pure perché Elena non aveva mai mostrato segni di squilibrio mentale ma i periti della difesa invece non sono d'accordo sullo strangolamento perché il cadavere non dà prove inconfutabili di questo come vi ho detto l'osso ioide non è stato trovato quindi non si può verificare che sia stato rotto il collo di Elena non è stato trovato l'unica frattura presente è quella dell'osso sacro compatibile con una caduta in effetti il problema di dimostrare che Elena sia stata davvero strangolata è tangibile perché la parte del collo dello scheletro non è mai stata ritrovata lo scheletro era danneggiato ok ma nonostante questo i periti dell'accusa sono sicuri che lei sia stata soffocata e che sia quella la causa della morte e la sentenza dà ragione all'accusa ripeto sempre non lo dico io vi sto raccontando il processo Michele Boninconti viene condannato al massimo della pena con il rito abbreviato ovvero 30 anni per il giudice Elena non è fuggita non si è sentita male non è stato un incidente Elena è stata distrutta e annientata fisicamente e psicologicamente il suo corpo è stato celato alla vista nascosto in un luogo dove potesse guastarsi in fretta portandosi con sé tutti i suoi segreti Michele si è contraddetto troppe volte e inoltre le celle agganciate dal suo telefono confermano che lui fosse lì quando lei moriva finisce così la storia di questa famiglia descritta come una famiglia esemplare felice perfetta Michele è in carcere non si è reso ma per il momento accetta quella che è la sua realtà quindi studia prova ad avere qualche contatto con i figli ma i quattro bambini sono ormai cresciuti e non hanno più contatti con lui anche perché i bambini conoscono ovviamente quella che è la verità processuale come tutti cioè che il padre ha ucciso la madre e ha perso la potestà genitoriale nei loro riguardi però appunto la verità processuale è questa la relazione tra Michele ed Elena era apparentemente patinata e idilliaca ma era un inferno Elena era annientata soprattutto a livello psicologico da una relazione soffocante con un marito controllante dotato di un io ipertrofico le sue capacità di scelta erano ridotte a zero durante la loro convivenza e la loro relazione coniugale da questa prigione dorata Elena ad un certo punto vuole fuggire e ha trovato una via d'uscita e una volta assaporata non riesce più a farne a meno non so dove lei si sia spinta ma risulta che sentisse come vi ho detto almeno sei persone sei uomini amici o altro non lo so ci sono varie fonti alcune riportano anche un'infedeltà conclamata di Elena che anche in paese si sapeva questa cosa che Elena addirittura accogliesse in casa e incontrasse fuori casa i suoi amanti a me non piace sporcare la sua memoria ma comunque è giusto dirvi quello che è emerso ok io non so poi quale sia la verità sono molto cauta nel parlare perché comunque ci sono i figli di Elena ancora in vita i genitori e non mi permetterei mai Elena probabilmente voleva evadere ma non aveva gli strumenti per fuggire da quella costrizione inoltre amava tantissimo i suoi figli il suo cuore era in quella casa questa donna deve aver provato una grande devastazione interna la perdita di ogni certezza ma quello che turba che mi turba di più è che probabilmente Elena non ha mai capito di essere in pericolo di vita non ha mai pensato di essere in pericolo in casa sua lei forse aveva commesso qualche errore forse voleva rimediare ma sicuramente lei credeva nella solidità di Michele e non immaginava che il marito stesse progettando la sua fine e che lo stesse facendo con metodica precisione i vestiti gli occhiali il telefono la crisi psicotica le ricerche lo sguardo che ogni giorno si appunta come nel cuore rivelatore a quel canaletto in lontananza a quel corpo di madre di moglie a tutti quei desideri inespressi a quel bisogno di scoperta che piano piano si macerano si guastano e si fondono nel canale e ogni giorno il silenzio di che osserva lo sguardo che si appunta in lontananza è sempre un po' più sicuro più certo più convinto di avercela fatta Elena deve essersi svegliata quel mattino tra le mura di casa sua tra le lenzuola del suo letto non immaginando che entro poche ore sarebbe stata carne morta dentro ad un canale fangoso se lo avesse immaginato credo che si sarebbe sentita veramente beffata da quella vita a cui comunque anche sbagliando anche inciampando lei aveva dato tutta se stessa ogni giorno della sua vita non aveva mai commesso un passo falso aveva poi un certo punto deviato sentito il bisogno di scappare forse per qualche dono aveva anche sbagliato ma non meritava di morire così questo è l'unico ritratto di Elena Ceste che nella mia ignoranza di persona che in fondo non sa niente io posso regalarvi nel 2015 il tribunale di Torino ha tolto la potestà genitoriale dei figli minori a Michele Boninconti a maggio del 2018 la condanna di Michele a 30 anni è stata confermata anche in Cassazione definitivamente ok però so che Michele nel 2020 ha chiesto la revisione del processo per l'omicidio di sua moglie e che sta ancora lottando per la sua libertà perché lui dichiara di essere innocente ha dichiarato inoltre di sognare ancora sua moglie Elena dal carcere vestita di bianco che gli apre le braccia e gli sorride e lui continua a chiedersi perché è proprio lei perché è proprio loro e a urlare la sua innocenza credo che oggi Michele abbia anche una nuova compagna non è chiaro se sia solo un'amica o altro dovrebbe chiamarsi Marilinda e lo va a trovare in carcere i quattro bambini di Elena e Michele sono cresciuti con i nonni materni e ormai hanno dieci anni in più sulle spalle credo che la più piccola abbia ora quattrodici anni con il padre non hanno più contatti da tempo la maggiore dei quattro figli Elisa nel 2020 aveva appena compiuto diciannove anni e ha scritto e pubblicato un toccante messaggio di gratitudine ai suoi nonni materni Elisa si è diplomata e poi ha iniziato subito a lavorare presso un'azienda albese per aiutare i suoi supernonni li definisce così dopo di lei c'è il terzo genito R 17 anni che frequenta la scuola e gioca a calcio poi G di 15 anni che frequenta l'istituto tecnico ed è molto attivo nell'oratorio e la più piccola appunto A che nel 2020 aveva appena 12 anni sì quindi adesso dovrebbe avere 16 anni circa entrambi i quattro bambini sono cresciuti cullati da un amore immenso quello dei nonni materni Elisa dice proprio questo loro ci hanno tenuto uniti e sono loro gli artefici di questo miracolo di unità queste sono proprio le sue parole a dispetto di tutto sono molto uniti dice sono molto attaccati a quello che a loro è rimasto un amore immenso il ricordo di una madre a cui Elisa nel giorno del funerale ha detto ad alta voce questo nessuno è più ricco di noi ad aver avuto un tesoro di mamma come te con te potevamo fare tante cose senza di te cresceremo sapendo che ci hai lasciato in buone mani la mia preoccupazione più grande nell'affrontare questi casi così recenti che spesso mi chiedete di affrontare è la memoria di chi soffre il pensiero di chi soffre come i figli di Elena come i genitori di Elena ma anche i genitori di Michele se sono ancora in vita bisogna essere sempre molto cauti e se qualcosa che ho detto o che ho fatto ho ferito qualcuno mi dispiace non era mia intenzione ci tengo anche a precisare che le informazioni che uso nei miei video sono tutte informazioni che io verifico libri podcast atti perizie degli avvocati che si trovano anche su internet insomma tante cose non c'è mai nulla in quello che io racconto al di là del fatto che do il mio taglio che sia frutto e farina nel mio sacco ok c'è lo stile ma non c'è nulla che io affermi lo dico questo perché recentemente ho avuto anche qualche problemino mi capita raramente perché sono molto attenta però capita che comunque soprattutto con i casi più recenti qualcuno si senta disturbato o magari che voglia utilizzare il canale anche per raggiungere degli altri scopi chiedere a una youtuber di farsi portavoce di qualcosa no noi raccontiamo solo delle storie almeno dico noi ma parlo per me io racconto solo delle storie cerco di farlo in maniera oggettiva voglio portarvi anche dei casi recenti chiaramente dovrò essere sempre molto attenta che siano casi a cui la giustizia abbia dato la parola fine perché è giusto che sia così se c'è un processo ancora in atto io non ne parlo ho fatto qualche volta questo errore e non è giusto non è giusto neanche nel rispetto di chi sta affrontando un processo e quindi ha diritto chiaramente a fare il suo percorso prima che una persona ne parli su un canale youtube almeno questo è il mio pensiero chiaramente non giudico quello che fanno gli altri spero di essere stata chiara spero che questo video vi abbia come sempre fatto riflettere ci lasci qualcosa tornando alla nostra quotidianità noi ci vediamo ogni martedì alle ore 20 grazie a tutti della visione grazie a tutti